Io ve lo dico subito, se questo episodio supera 15.000 like, vi prometto che domani torniamo alla stessa ora alle 10, domenica mattina, e vi completo tutte quante le skin da shoppare in gemme sul mio account, le shopperemo tutte. Ciao ragazzi, mi sono Crax e bentornati nel mio canale, siamo con Yoshino, ciao Yoshino, come stai? Ciao! Ciao, tutto bene. Oggi sono qui per shoppare tre skin vecchissime, cioè tre skin super old, addirittura rilasciate ancora prima del rilascio globale, dato che siamo più o meno all'anniversario del rilascio globale, ho deciso di shopparle. Le voglio shoppare e sono esattamente Colt Rockstar, Bombardino d'Oro e Shelly Bandita. Se non erro, Bombardino d'Oro e Shelly Bandita sono ancora più vecchie del Colt Rockstar. Perché le shoppa adesso? Perché poi ragazzi usciranno le skin di Natale, le shopperemo tutte, vi ricordo, fondamentale nel negozio, non potete non inserire il codice Crax. Shoppate ragazzi il codice Crax se volete supportarmi, fate una mini clip alla vostra shoppata e taggatemi su Instagram, Insta Crax, che vi riposto. Io direi di partire, ho fatto vedere Bombardino nella home, quindi mi vado a shoppare subito il Bombardino d'Oro e voglio anche sapere se voi avete già shoppato queste skin che costano anche relativamente poco. A me tipo ne mancano cinque totali, tre ne shoppo oggi, domani dovrei shoppare Brock B-Boy e Sandy Dormiglione. Mi mancano queste, poi magari failo. Prima skin che arriva! Bombardino dorato, ne ho un botto di Bombardino, mi manca quello con l'accappatoio rosso ma non mi piace. Tra l'altro quelle riguardano i punti stellari, saranno altre cose che gestiremo in futuro. Dov'è il mio Bombardino? Ce l'ho al 540, dobbiamo portarlo al 550 ed eccolo qua, tutto dorato. Ultima cosa che mi sono dimenticato, iscrivetevi al primo e al secondo canale, soprattutto al secondo canale perché Yoshi cosa faremo dopo? La sete di power. La sete di potere. Ebbene sì, cercheremo di superare le 700 coppe. Passate nel link in descrizione perché ovviamente faremo delle partite meravigliose, al minimo le perdiamo tutte. Se volete vedere le nostre sconfitte, passate al Ilgrax, vi aspetto. Diciamo che sta skin è carina, eh. Pensavo fosse più brutta, ragazzi. Nulla a che vedere con le varie versioni Bombardino, Freddy Mercury oppure quello che lancia lo sciroppo d'acero, eh. Però è carino, ci sta, ha le maniche di là di su, tutto quanto d'oro. C'ha anche l'orologio da taschino, bello, bello, bello. 30 gemme ci può stare. Abbiamo 4 power up Yoshi. Dai che li mangiamo. Ok, questa può andare giù. Tac. Tac. Diciamo che questa è la skin più difficile da gestire. Ok. Yoshi mi sono sacrificato. Maron, regà. Ottimo. Però siamo schiacciati sulla sinistra. Attenzione perché non sarà per niente facile da la... Eh, gran giocata. Un secondo rinasco io. Perfetto. Se togliamo la Piper non perdiamo coppe. Ci basterebbe anche una seconda, però Bombardino è troppo... Difficile da gestire qua. Seconda posizione per arrivare. Poi con un'altra seconda posizione a 5.50. Morto come un pollo. Grax non sta praticamente giocando. Yoshi se non sta giocando da sola. 4 team. Ems ci salva la life. Grande colpo di Yoshi. Eh, penso che sia arrivato il nostro massimo, ragazzi. Giusta la prima. Io ne rifaccio un'altra solo per vedere se è fattibile fare coppe in questa mappa con Bombardino. Secondo me no. Però ci proviamo. Tra l'altro Yoshi deve recuperare le 6.50. Ma guarda che spawn! Ma ce lo fanno apposta! Ma stiamo scherziamo! Vada, signor Bombardino. Allora, fino a qui tutto regolare. C'è un Danamaic che jumpa, però mi rincuardo perché... È come me un Trower, non dovrebbe farmi troppo paura. Questo se la jumpa è brutto, raga. Ma quanto te la jumpi, zio? Occhio Yoshi. Pulito. Sì. Leon sta bello indebolito, esatto. Magari se lo colpisco, ragazzi, possiamo fare delle cose. Eccolo! Ottimo! Vai così! Questa è una kill molto importante. Ci permette di andare avanti e ci ha fregato tutti quanti i Power Up. Colpo. Vai che te l'ho indebolito abbastanza. Le! Non può tornare indietro. Non può tornare indietro. E fa rinascere Leon, però. Adesso la ulti. Molto più complicato del previsto. Tac. Sventagliato a paura della ulti di Leon, che al momento non ha. Quindi basta semplicemente un colpetto per farla andare giù. Adesso ha recuperato vita. Due partite complicatissime. Il Colt può andare giù! Kill di Yoshi! Io sono totalmente impotente con Bombardino. Ho scelto di comprare Bombardino quando la mappa è super sconsigliata per i Trover. Dobbiamo andarcene perché se no ci massacrano. Tutto sta a non far caricare la ulti a Leon. Sì? Sì? La concentrazione. La prossima che scioppo, ragazzoli, sarà Colt. Non occorre non venire da noi! Jumpa dalla... Bravo. Chill. Eh, ma stanno venendo da noi. Io non capisco il motivo. Ci abbiamo il miele. Ok. Bull che prova il push! Non sa che io sto per rinascere. Bull va giù, forse, seconda posizione. Seconda presa. La vittoria è impossibile. La vittoria credo sia infattibile. A meno che io, ragazzi, riesco a prendermi qualche... Ma che me prendo? Non ci credo! Vai Yoshi, vai Yoshi. Sì. Eccolo! Sì! Eccolo. Fimer di un altro livello. Speriamo che con Colt vada meglio. Bombardino lasciamo a 5.44. Lo riprenderemo in una mappa dedicata a Bombardino. Questa è la prima skin vecchissima. Shoppata. Simpatica. Mi piace. 30 gem. Ripeto, ci sta. Prossima shoppata. È il momento di prenderci Colt. Rockstar. 30 gem. E via di pistolette. Ricordo sempre i codici Crax, eh. Mi raccomando. Sempre i codici Crax. Ovviamente, lo vado ad impostare e altra partita. Tac. Queste le hai due Yoshi? Le shoppate queste qua? No. No. Queste no. Attenzione. Quindi faremo anche una versione dove Yoshi shoppa le sue skin. Potrebbe. Potrebbe. Ovviamente la prima tagliata, ragazzi, perché ce la fa sempre perdere. Stavolta spawn devastante in basso a sinistra se vola. Me gusta. Me gusta. Con questa skin oramai dannata. Ci sfondiamo sto power up. Poi l'ultima sarà con Shelly. Diciamo che Shelly spacca con i succhi. Però non è questa la mappa di Shelly. Quella di Shelly è quella che c'è la Cicora al centro con i succhi. Questa è più una mappa da brawler dalla distanza dove Colt dovrebbe giocare benino. Vediamo se riesco a pushare, a fare cose. Tanto queste sono solamente partite di aperitivo che poi diventeranno concrete con il video sul secondo canale. Quindi passateci, secondo canale. Giocheremo io ai Yoshi, le 2v2. Prima del cambio che dobbiamo anche sbrigarci perché è abbastanza tardi. Questo me grappa, questo me grappa e Grax se ne va. Ok, l'ho preso io, però ho sbagliato. L'ho preso, ragazzi, perché mi stava a muove veloce e ho fatto cose. Questi vanno tutti e due nella parte, quella centrale. Poi per la mangio, ma genio non credo di farlo fuori. E non ho vita. Questo è il grande... No, 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 me ne vado via di corsa. Non so come ho fatto. Me ne sto andando. Leone non venire da me. Gang, me ne vado in alta a sinistra. Shhh, non avete visto niente. Sono buoni. Ok, colpi che entrano. Colpi che entrano. E mi hanno mangiato. Non voglio sprecare i miei power-ups. Una entrata. Mancao lì Jess. Sì. Sì. No, 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 no. Cioè, se ci avviciniamo moriamo entrambi. Pulito. Zero coppe perse. Vada, signor Yoshi. Questa la vinciamo. Ci rifacciamo per la partita tagliata di prima. Hanno il succo. E mo' che mi invento. Dove fare una ulti per allontanarli al... No, regà, no. È infattibile. È infattibile! Peccato. Maledetto game. Però, concretizzato anche la Rockstar. Ora, Shelly, Bandita. Che hanno tantissimi. Perché io, ragazzi, la vedo sempre in giro. Per 30 gemme, tanti la shoppano. E la vado a shoppare anche io. Domani, ricordo, prenderemo tutto. Ma lasciate un bel pollice all'inzio di supporto. Completiamo tutte quante le skin. Tutto il parco skin. Costo gemme. Tra l'altro ce l'ho a 5,50. La dropperò sicuro. Eccola! Sempre con Piper. Molto Pirate dei Caraibi. Sto scherzando, ragazzi. Non è quel tipo di bandita. Non è Shelly Corsara. Ma è proprio bandita. Questa è una criminale. E sinceramente, con i succhi qua posso divertirmi abbastanza. Solo che mi ammazzano subito. Bella figuraccia. Ottima la figuraccia dei Grax. Ottima! Bono, regà. 300 di vita. No! C'è una Penny Elfo? Sì. Ragazzi. Io spero che con l'aggiornamento rimettano le skin di Natale. Vi prego. Utilizzate il codice Grax. Se le mettono, facciamo volare lo shop. Lo devastiamo. Io lo shoppo tutte. Sia quelle vecchie a quelle nuove. Mi shoppo tutto! Codice Grax. Lo trovate in descrizione anche per mettere in maniera automatica e diretta. Mi date un succo, please. Mi è stata da un succo. Vorrei prendere quella al centro, ma c'è stato in mezzo il corvo. E tra l'altro anche il corvo bianco è una skin molto, molto vecchia. Yoshi l'ha massacrato. Appena tropperò tutti i brawler, shopperò anche le restanti skin. Eccola lì. C'è stato il fetto lì. Il fetto più sandy. Datemi un succo. Che ve li spacco tutti. Il fetto. Ma guardate, tira le calze di Natale. Ma quanto è bella. Chi è là dietro? Tana Mike? Ah, questo è un problema. Allora, stecca. Può farci veramente male. Ok. No! Maledetto succo! Maledetto succo, ragazzi. La chiudo qui perché è giusto far vedere le sconfitte. No, tagliate due o forse una, non lo so. Ma l'ultima la lasciamo sul pareggio perché tanto se la rifaccio, raga, me fa droppà perché ci deve far scendere sotto le 5.50. Io però vi lascio con una promessa. Lasciate un pollicione e domani vi shoppo sicuramente Brock B-Boy. Ma credo che mi manchi anche Sandy Dormiglione e forse qualcos'altro. Vi spendo tutto, spendo gemme, compro gemme, facciamo cose. Iscrivetevi. Passate anche al secondo canale perché tra poco giochiamo con Yoshi. Yoshino, un bacio, grazie per il video! Prego, prego. Un abbraccio enorme, ci becchiamo tra pochissimo. Ciao belli, ciao ciao! Ciao!